Si è svolto nella mattinata di domenica nella città di Andria il classico appuntamento con Puliamo il Mondo, l'iniziativa patrocinata dal Parco dell'Altamulcia si è svolta presso il canale Ciappetta Camaggio, una zona di continuità, nel segno spesso dell'incuria e del degrado tra la periferia e la città. Sicuramente è sempre un valore, è un'azione sensibilizzativa che ci teniamo quest'anno a fare in ambito cittadino, però naturalmente il messaggio di quest'anno non è pulire ma cercare di non sporcare perché potremmo così pulire all'infinito e non finire mai quindi il messaggio è cercare di sensibilizzare le persone a non gettare i rifiuti per strada perché è veramente un gesto deplorevole con tutte poi le conseguenze annesse perché ci sono anche i roghi e quindi veramente c'è un impatto ambientale serio. Naturalmente quest'anno abbiamo anche fatto questa cosa, siccome c'era l'imbarazzo della scelta che i punti critici sono veramente tanti, abbiamo fatto una votazione online ed è stato votato proprio questo punto, il canale Ciappetta Camaggio nella parte che attraversa la città nei pressi della scuola Manzoni ed è veramente una zona calda possiamo definirla per la quantità di rifiuti che c'è. Naturalmente il fenomeno è diffuso in tutte le periferie ed è veramente oggi un'emergenza. All'operazione di pulizia vi ha partecipato anche l'assessore all'ambiente del comune di Andria, Michele Lopetuso, che ha annunciato l'arrivo di molte più salate per chi non differenzia i rifiuti in maniera adeguata. Dire ai cittadini di non sporcare, di non lamentarsi sempre perché sto vedendo anche una certa cattiveria sui social, sui mezzi di stampa. Mi permetto di dirlo perché si tende sempre a vedere la mancata raccolta e non chi ha provocato questo tipo di rifiuto, chi ha abbandonato in maniera insensata e direi da imbecille. Non voglio usare termini più forti ma ce ne sarebbero a quantità. Come multe ne abbiamo fatte ad oggi, dall'inizio dell'anno, 160 per quanto riguarda l'abbandono soprattutto in periferia e una quarantina per errato conferimento perché non dimentichiamo che va sanzionato anche quello. L'errato conferimento perché dobbiamo attenerci a quelli che sono i giorni di raccolta differenziata. È insensabile, è veramente ingiustificato quello che succede in periferia visto che c'è il servizio di chiamata per gli ingombranti, quindi vengono veramente a raccogliercela sotto casa e non capisco chi si carica in macchina, un materasso, un mobile per andarlo a buttare in periferia. Veramente senza motivo, è una cosa veramente stranissima. C'è l'isola ecologica per chi volesse andare personalmente a conferirlo, ma può lasciarlo benissimo sotto casa. Puliamo il mondo!